Amore mio, tante le cose che vorrei dirti, ma come ben sai, non sono un gran chianchiedone. Però una cosa vale la pena dirti, grazie, grazie per avermi accolto nella tua vita, grazie per avermi accettato per come sono, grazie per tutti i momenti stupendi passati insieme, un grazie speciale per aver messo al mondo il nostro figlio, un grazie per quello che fai ogni giorno per noi. Semplicemente grazie per essere insieme a noi. Da oggi in poi tu Thomas rivolgerai a Valentina e le dirai che cosa posso fare per renderti felice? E anche tu Valentina, Thomas, che cosa posso fare per renderti felice? Proprio perché l'amore è l'estasi, cioè uscire da sé e pensare al bene dell'altro. Io Thomas accolgo te Valentina come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Thomas, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti! Siamo qui a celebrare l'amore. E io credo profondamente che l'amicizia sia un intreccio a quale meggiore. So di essere fortunato di avere un fratello speciale come te. Grazie per avervi illustrato cosa sia la felicità, la fiducia e l'armonia tra due persone. Perché il vostro amore è puro, è vero, meglio di ogni reggia di Hollywood. Permettetemi di vivere la vita in ogni suo istante. Una vita da vivere con felicità negli occhi e l'amore nel cuore.